Oggi vi porto con me in un evento stratosferico, siamo al Nurburying, il tempio delle auto da pista, GT3, GT3 RS, GT4, questa è la GT2 RS, proprio quella su cui noi saliremo oggi, guardate che roba favolosa, sono con Matteo Cairoli, vincitore della 24 ore del Nurburying, quindi devo dire che sono in ottime mani, ci prepariamo, ci mettiamo il casco, indovinate un po', pronti per entrare in pista, la prima GT3 RS, ce la mangiamo a colazione e guardate un po', sta per arrivare anche la seconda, la GT3 992, che è anche questa fumata. Comunque, giornata divertentissima, ho provato delle sensazioni mai provate prima, sudatissimo, niente, spero che vi sia piaciuta questa giornata.